Fabrizio Corona durante la presentazione della sua autobiografia, intervistato da un giornalista dell'estate in diretta, ha la domanda A vent'anni dicevi, sarò ricchissimo, guiderò una Porsche e sposerò una modella. Ora, dopo le tue vicissitudini, come ti vedi a 50 anni? Ha risposto con una frase lapidaria, come sarò a 50 anni? Non ci sarò. La frase ha lasciato tutti spiazzati, ma a quanto pare Fabrizio Corona è convinto che la sua vita sarà brevissima. Nonostante dopo il carcere e la comunità si senta un uomo rinnovato, secondo lui il problema è nel suo intimo Ancora oggi sono convinto di essere una persona diversa, ma sento di avere un fuoco dentro che mi porta a fare cose incredibili ed a volte disastrose Fino a che riesco a tenerlo a bada va tutto bene, posso essere una persona speciale e posso fare tante cose belle Ma tutti i suoi errori non l'hanno portato al pentimento, nonostante le condanne e la voglia di affrontare la vita da uomo rinato Non mi pento di quello che ho fatto, quel mondo l'ho creato io, i personaggi li ho creati io Ero al top ed ancora oggi so di aver dominato il mondo del gossip a partire dalla città di Milano